Luciana Littizzetto smette i panni della cabarettista. Il suo intervento toccante ha spezzato il cuore al pubblico. Al pari di molti altri colleghi del mondo dello spettacolo, anche Luciana Littizzetto ha preso con dolore la notizia della morte di Maurizio Costanzo, deceduto il 24 febbraio del 2024. In occasione del primo anniversario della sua dipartita, la vedova Maria De Filippi ha scelto di omaggiare il conduttore con una puntata speciale del Maurizio Costanzo Show, presso la storica location del Teatro Parioli, invitando sullo stage numerosi ospiti. Anche Luciana Littizzetto ha preso parte all'evento, fissato per martedì 20 febbraio, e per una volta ha rinunciato agli sketch comici per offrire al pubblico un lungo monologo in cui ha celebrato la vita e la carriera del baffuto giornalista. Il suo intervento ha decisamente commosso sia Maria De Filippi, che tutti i presenti e gli spettatori da casa. Nel paragrafo successivo, tutti i passaggi più salienti del suo ispirato soliloquio. Luciana Littizzetto ricorda Maurizio Costanzo. Sei stato la televisione. La storica spalla di Fabio Fazio ha esordito. Ciao Maurizio, o Mauri, come ti chiamano qua in famiglia? Oh caro Costanzo. Come ti han sempre chiamato gli italiani. Giornalista. Gran padrone di casa del, Costanzo Show. So che ad occuparsi della posta in famiglia è Maria. Ma questa sera fammi fare un'eccezione. Te ne sei andato da un anno. E da allora la tv non è più la stessa. Luciana Littizzetto ha quindi proseguito. Certo, si va avanti. Ma ti accorgi che manca qualcosa. Perché tu sei stato la televisione. Più del telecomando. Della parabola e del tubo catodico messi insieme. Tu sei stato l'invenzione. Quello che prima non c'era in tv. C'è un, avanti c'è un, dopo c'è. Dove ci sta per Costanzo. E sei stato il talk show. L'alto e il basso che si mescolano. Le vite della gente che diventano storia. Luciana Littizzetto commuove anche Fabio Fazio. La cabarettista ha poi elencato i meriti del compianto conduttore. Rievocando anche i tempi dei suoi stessi esordi sotto l'occhio clinico di Costanzo. E ha concluso. Anche se il palco è tuo e la serata è per te. Voglio dire una cosa anche a Maria. Grazie per avermi fatta salire qui su questo palco a ricordare il tuo Maurizio. Il tempo non cambia un bel niente del dolore. Quello picchia duro sempre. Ma ricordare insieme è una specie di carezza che lo rende un po' più lieve. Siete una bella coppia. E infine. P.S. Maurizio. Almeno da lassù. Cambiando prospettiva. L'hai capito cosa c'è dietro l'angolo? A tal punto. Un commosso Fabio Fazio ha chiosato. Ecco perché Lucianina è speciale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.